Droga, arrestato il capo di un'organizzazione sardo-olandese. Si tratta del 38enne Roberto Aurelio Porru. Si chiude così l'operazione antidroga Calesse della Compagnia dei Carabinieri di Carbonia. Blackout elettrico per il maltempo. I forti venti e i temporali dello scorso weekend hanno avuto come effetto l'interruzione dell'erogazione della corrente elettrica per diverse ore in numerosi comuni del Succis. Carbonia, via Manno ancora chiusa. Continuano le proteste dei commercianti del centro storico che lamentano un calo dei fatturati. Nel nostro telegiornale un'intervista realizzata con Elio Cancedda, coordinatore del movimento Partite IVA del Succis. Canone TV. Entro il 31 gennaio le domande di esenzione. Gli anziani con oltre 75 anni di età e un rendito inferiore a 6.713 euro possono richiedere di essere esentati dal pagamento. Ben ritrovati su Canale 40. In apertura del nostro telegiornale c'è la cronaca, soprattutto per parlare dell'operazione antidroga Calesse che si è conclusa definitivamente con l'arresto di Roberto Aurelio Porru. Si tratta di un 38enne che era il capo dell'organizzazione che operava nel traffico della droga tra la Sardegna e l'Olanda. Maggiori dettagli in questo servizio. Sabato pomeriggio, a seguito dell'attività tecnica posta in essere dai carabinieri di Carbonia, è stato tratto in arresto Roberto Aurelio Porru, latitante internazionale. Con l'arresto di Porru, 38enne sardo residente in Olanda, si è chiusa definitivamente l'operazione antidroga Calesse. Porru era il capo dell'organizzazione sardo-olandese che inviava la sostanza stupefacente dall'Olanda alla Sardegna. L'operazione era stata sgominata dalla compagnia dei carabinieri di Carbonia il 17 maggio 2016 e rimaneva da catturare soltanto il capo, Roberto Aurelio Porru. Su Porru, i carabinieri di Carbonia avevano attivato già dal giugno dello scorso anno un'attività finalizzata alla cattura, monitorando i suoi contatti in Italia, soprattutto nel paese di origine del malvivente, Suelli, luogo dove Porru tornava diverse volte l'anno. Nel corso dell'attività investigativa, emerso quanto l'uomo fosse scaltro e con una mentalità criminale avanzata, Porru riusciva infatti a mantenere i suoi contatti a Suelli, sfruttando canali alternativi di comunicazione, dotando i suoi colleghi di telefoni specifici. Tuttavia, egli ha commesso alcune imprudenze che gli sarebbero costate care, per esempio una foto scattata e pubblicata su Facebook in occasione del compleanno del padre. Ad aiutare i carabinieri nella loro indagine è stata anche la partenza di un parente di Porru verso Tilburg, la città olandese di residenza del capo dell'organizzazione sardo-olandese. Porru è stato arrestato in collaborazione con l'Interpol e la polizia olandese. L'uomo verrà estradato in Italia. E ora parliamo del maltempo che ha colpito la Sardegna, in particolare il successo iglesiente nello scorso weekend. È stato un maltempo che ha avuto come effetto quello di causare un blackout, soprattutto per quanto riguarda diverse centinaia di utenze che operano praticamente tra Carbonia e il basso sulcis, quindi persone che sono rimaste senza corrente elettrica. Uno degli effetti del maltempo che ha colpito il sulcis iglesiente nello scorso weekend è stato il blackout elettrico di cui sono state vittime centinaia di utenze rimaste isolate per numerose ore. A Carbonia alcune famiglie sono rimaste senza corrente elettrica per addirittura 28 ore consecutive, in pratica dalle ore 15 di sabato alle ore 19 di domenica 22 gennaio. Situazioni analoghe o quantomeno simili si sono verificate anche a Sant'Antioco e in altri piccoli comuni del basso sulcis. Si sono verificati casi di ammalati con apparati salvavita che sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale Sirai di Carbonia. Numerosi disservizi per i cittadini, cibi guasti, mancanza di acqua calda, apparecchi elettronici fuori uso. Questi guasti portano in luce la fatiscienza di alcuni impianti elettrici, oltre che la carenza di organico dei tecnici dell'Enel. Adesso parliamo della chiusura al traffico di Via Manno, una delle principali strade di Carbonia. Ebbene, Via Manno è chiusa al traffico da diversi mesi e i commercianti si stanno lamentando e appunto protestano per un calo del loro fatturato. Abbiamo fatto il punto della situazione con Elio Cancedda, che è il coordinatore del movimento Partite IVA del sulcisiglesiente. Elio Cancedda, coordinatore del movimento Partite IVA del sulcisiglesiente. Parliamo della situazione dei commercianti che si trovano nella zona di Via Manno a Carbonia, una strada che è stata chiusa ormai da diversi mesi e che verrà riaperta soltanto tra qualche giorno. Quindi gravi problemi per quanto riguarda i commercianti che hanno sicuramente perso parte del loro fatturato. Questo film l'abbiamo già visto per Piazza Ciusa. Avevamo fatto una grossa manifestazione perché anche lì i commercianti hanno dovuto aspettare mesi che finissero i lavori. Per Via Manno, chiedendo anche ai commercianti, dicono che in questi quattro mesi hanno perso circa un 50%. Allora l'amministrazione comunale, certo non è a colpa l'amministrazione ma è a colpa l'impresa, che chiedano i danni perché addirittura alcuni commercianti hanno chiesto che vorrebbero chiedere il mancato guadagno e fare causa contro le imprese e contro il comune. Poi se posso aggiungere qualcosa, per quanto riguarda anche i parcheggi, noi appena è entrata questa nuova amministrazione comunale avevamo chiesto di poter parlare di parcheggi e parlato anche con l'assessore. Stiamo aspettando che ci chiamino, che ci chiamino per vedere un attimino cosa si può fare, per dare dei consigli, perché ancora oggi non ci hanno chiamato. E voglio dire anche a tutti gli assessori, quando parlano di partite IVA, che ci chiamino a noi del movimento partite IVA? Perché non è giusto che, sì, devono decidere loro, ma vogliamo parlare anche noi e che decidano anche con noi. Quindi, Andrea, io speriamo che lunedì riaprano, perché così ci stanno solicitando continuamente, perché i commercianti stanno decidendo di fare una manifestazione se lunedì non riaprono. C'è stato un grosso problema, soprattutto in prossimità delle festività natalizie, in cui quella strada era chiusa e proprio nel periodo natalizio i commercianti, diciamo, che riescono a effettuare la maggior parte dei loro incassi e del loro fatturato annuale. Ma infatti poi il caso ha voluto che questo lavoro l'hanno fatto per il periodo di feste, ecco perché hanno perso il 50% circa. Quindi, ormai, vabbè, ormai siamo arrivati a questo punto, speriamo che lunedì riaprano. Altrimenti i commercianti ci stanno sollecitando a noi come movimento partite IVA di organizzare una manifestazione. Elio Canceda, qual è la situazione delle partite IVA del Sulcis? Quante sono diminuite in quest'ultimo periodo? No, stanno diminuendo giorno per giorno. La situazione è gravissima. Ma oggi sembra che si debba parlare delle tasse sia dei cittadini che delle partite IVA. Speriamo che decidano, non dico almeno di diminuirle di qualcosa, perché non si può più andare avanti così. In apertura della seconda parte del nostro telegiornale parliamo di un'indagine di Confartigianato Sardegna che rileva una riduzione del numero degli occupati nelle imprese del settore edilizio. Cale il numero degli occupati nel settore edile in Sardegna. Tra tutte le imprese del comparto si è passati dalle 58.000 unità del 2008 alle 40.000 del terzo trimestre 2016. Solo nell'ultimo anno, tra diretti e indiretti, si sono persi oltre 6.500 posti di lavoro. Il calo del numero di occupati è la diretta conseguenza della riduzione di imprese operanti nel settore. A fine settembre 2015 erano 18.442 le aziende che si occupavano di edilizia. Nel settembre 2016 si è registrata la perdita di ben 297 aziende. I dati sono stati rilevati da Confartigianato Sardegna. Le imprese del settore edile sardo lamentano l'eccessiva tassazione sugli immobili, il fisco, la burocrazia, la concorrenza sleale da parte delle imprese che operano in nero e il problema degli appalti pubblici affidati spesso a scatola vuota ad imprese con sede fuori dalla Sardegna. E ora parliamo del nuovo codice degli appalti pubblici che prevede che i comuni debbano praticamente dare priorità alle aziende locali per lavori di un importo che sia sotto un milione di euro. Abbiamo cercato di fare un'indagine per capire quali comuni stiano adottando questo provvedimento e abbiamo cominciato con il comune di Portoscuso. Abbiamo intervistato a tal proposito il sindaco Giorgio Alimonda. In collegamento telefonico con noi Giorgio Alimonda, sindaco di Portoscuso, per parlare del nuovo codice degli appalti pubblici che prevede che i comuni che affidano degli appalti sotto la cifra di un milione di euro debbano interfacciarsi e interloquire con gli operatori locali a cui deve essere data una sorta di priorità. A Portoscuso lo state facendo? Sì, noi abbiamo appaltato un considerevole importi di lavori pubblici, chi conosce Portoscuso potrà sicuramente notarli e già ci avvaliamo di queste norme che consentono una priorità per l'aggiudicazione dei lavori a imprese locali, imprese sarde. Tanto è vero che se andiamo a vedere chi si è giudicato in questi lavori sono tutte imprese locali, eccetto una perché sono appalti sopra il milione di euro, tipo la bonifica delle strade Vels che sono specializzate con altri requisiti che sono aggiudicati in quell'appalto. Ma tutti gli altri lavori fortunatamente sono stati appaltati anche con soddisfazione devo dire a imprese sarde, imprese locali. In questo modo è possibile risollevare dalla crisi il piccolo tessuto delle imprese produttive del territorio? Sicuramente è un'opportunità in più, ma ci sono tanti altri vincoli che purtroppo da una parte ci si favorisce anche verso questa direzione e dall'altra un po' ci limita perché come sapete, forse mi avete già discusso, i comuni sotto una certa dimensione non saranno più stazioni appaltanti in quanto tali e si devono riunire nella stazione appaltante dell'unione dei comuni perché questo per legge nazionale è nel presupposto che se si aggregano gli acquisti si dovrebbe risparmiare ancora di più per lo Stato, ma ho l'impressione che ciò anche dai primi approcci rispetto all'applicazione di questa normativa non mi pare che ciò stia avvenendo. E ora passiamo alla politica con un'intervista che abbiamo realizzato con Federico Iba che è il coordinatore regionale del partito Centristi per l'Italia. Siamo in compagnia di Federico Iba, leader regionale dei Centristi per l'Italia. Oggi lei è nel Sulcis per presentare il suo progetto ai cittadini. Sì, è una prima tappa che abbiamo fatto dedicando a temi cruciali per il Sulcis come l'agricoltura, come l'industria, come il sistema dei trasporti. Una riunione molto partecipata direi durante la quale sono emersi dei problemi strutturali che chiunque venga da fuori Sulcis non può che rendersi contro. faccio esempio della strada a quattro corsie che da Villa Massargia porta a Carbonia senza uno spartitraffico centrale mettendo a repentaglio e a rischio la vita delle persone e soprattutto invitando poi perché è inevitabile che alcuni facciano un salto di corsia e creando degli incidenti spesso, mi hanno detto, mortali. Facciamo un esempio legato all'agricoltura e che è la base dello sviluppo economico di un territorio. Quando si viene a sapere che dopo vent'anni ancora non c'è una rete di interconnessione del sistema flumentosa, delle dighe del flumentosa con le dighe del Sulcis che ormai sono ai minimi livelli, forse le piogge di questi giorni hanno un po' rimpinguato le scorte dell'acqua ma che risulta comunque essere insufficiente o che non venga più contenuta da questi invasi che andrebbero meglio sigillati. Quando sento parlare gli agricoltori che fanno la produzione dei carciofi di Masainas che sono tra i migliori carciofi della Sardegna e che stanno mettendo in dubbio la produzione di questa primavera proprio a causa del fatto che non hanno della garanzia dell'acqua che invece uno Stato moderno, uno Stato competente dovrebbe garantire nel momento nel quale questi agricoltori firmano il contratto con il consorzio di bonifica. Quando sento queste cose mi rendo conto che c'è un deficit non tanto di politica, di ideologia ma proprio di comprensione dei problemi che sono l'ABC per lo sviluppo di una zona, di un territorio come quello del Basso Sulcis. Abbiamo parlato anche di commercializzazione dei prodotti attraverso il web e qui invece ho trovato veramente anche dei giovani che hanno delle capacità che portano da un piccolo comune con una rete web media a vendere i loro prodotti anche se di nicchia in tutto il mondo. Cioè vuol dire che c'è un substrato culturale importante nel Sulcis ma che questo non viene supportato dalla pubblica amministrazione. Io sento solo parlare della capitale, dell'ennesima provincia del sud della Sardegna che deve andare a Carbonia o a Isili. Cioè sento parlare di cose che non risolverebbero poi niente, tantomeno la rintroduzione delle province purtroppo. In apertura della terza parte del nostro telegiornale parliamo del canone TV, del canone della RAI di cui appunto si potrà chiedere un'esenzione entro il 31 gennaio. L'esenzione potrà essere richiesta dalle persone anziane oltre i 75 anni d'età che percepiscono un reddito che sia inferiore ai 6.713 euro. Entro il 31 gennaio si potranno presentare le domande di esenzione del canone TV, ovvero della tassa di possesso dell'apparecchio televisivo. Tutti coloro che hanno i requisiti, ovvero anziani con oltre 75 anni d'età e con un reddito inferiore a 6.713 euro, possono richiedere l'esenzione che va inoltrata tutti gli anni. Ovviamente la domanda di esenzione potrà essere presentata anche da tutti coloro che non possiedono un apparecchio televisivo. I facsimili per presentare le domande di ammissione sono reperibili sul sito internet www.canonerai.it. Il canone RAI da quest'anno è stato ridotto a 90 euro contro i 100 euro dello scorso anno e verrà addebitato in bolletta elettrica a 9 euro per 10 rate nell'arco dell'intero anno 2017. E ora siamo agli appuntamenti e facciamo il punto della situazione per quanto riguarda i prossimi avvenimenti che riguardano la compagnia teatrale La Cernita. Lo facciamo in un'intervista che abbiamo realizzato con Monica Porcedda, direttore artistico. Quali saranno i vostri prossimi appuntamenti per quanto riguarda i nuovi workshop? Ci vediamo tutti domenica 29 sempre al teatro di Bacquabis, ci sarà la seconda tappa del Laboratorio all'Opera diretto da Marco Natteri e poi La Cernita Teatro andrà in scena con Iqbal. Vi ricordiamo che ci sarà dopo domenica un secondo workshop diretto dall'artista Maurizio Giordo, si terrà sempre a Bacquabis il 31 gennaio e il 1 febbraio. Abbiamo già 20 iscrizioni ma diciamo che possiamo accogliere almeno altre tre partecipanti. Cosa bisogna fare per iscriversi? Per iscriversi potete contattare la nostra mail oppure il nostro numero che trovate nel sito della Cernita Teatro. E continuiamo con gli appuntamenti, in particolare quelli legati alla giornata della memoria di venerdì 27 gennaio dove alle ore 19.45 al Cine Teatro Centrale di Carbonia si terrà la proiezione del film Racconti di un viaggio dentro la memoria, organizzata dall'Arci Sardegna che dal 2012 ha intrapreso un progetto educativo che parte dalla memoria storica dell'Olocausto per tentare di approdare a dei percorsi di cittadinanza attiva. In cinque edizioni oltre 400 ragazzi sardi di età compresa tra i 18 e i 25 anni hanno potuto partecipare al progetto che prevede un corso di formazione storica, il viaggio nella città di Cracovia con la visita al ghetto ebraico, la fabbrica Oskar Schindler, il campo di stermino di Auschwitz-Birkenau, infine il percorso di restituzione presso i propri comuni di appartenenza. Bene, con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, adesso ci sono le previsioni del tempo e in seguito il telegiornale in lingua sarda Noas in Curso condotto dalla nostra Giovanna Desi. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ovest e Nord-Ovest con intensità di 7 km orari, possibili raffiche fino a 15 km orari, temperature minime comprese tra 4 e 10 gradi e massime comprese tra 11 e 15 gradi.